Ok, lago di Resia. Qua sono riaffiorati i resti delle antiche case del paese di Curon, il paese che c'era prima del lago, prima della costruzione della diga avvenuta nel 1950. Normalmente è tutto sommerso dall'acqua, ma ora per problemi di manutenzione hanno semiprasciugato il lago. Ecco i resti di una delle antiche case del paese di Curon. Normalmente è tutto sommerso dall'acqua del lago di Resia, che è stato costruito nel 1950. E' rimasto solo il campanile della chiesa. Vi porto nell'antica Curon, Val Venossa, lago di Resia. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti.